L'incontro con il Papa è sempre un piacere per noi, perché il Papa veramente conosce l'Europa molto bene, è un amico dell'Europa. E da spinte alla politica europea, il Papa è anche molto considerato tra gli uomini e le donne della politica a Bruxelles. Tutti parlano di laudato si e di fratelli tutti. Penso che il Papa ha un grande influsso sulla politica europea. Per l'immigrazione è terribile. L'Unione europea non avanza realmente e i paesi come l'Italia, la Spagna, Malta, la Grecia sono lasciati da soli. Questo è una vergogna per l'Europa. E dal mio paese, Lussemburgo, che accetta ancora tanti rifugiati, migranti, si vede che la gente si può integrare. Noi abbiamo ricevuto due famiglie dall'Espos. Due famiglie che non fanno, diciamo, il processo normale tra il governo, ma dove la Chiesa paga tutte le spese. Una famiglia cristiana e una famiglia musulmana. Vivono nella stessa casa, in due appartamenti. Della Siria? Sì, della Siria e del Kuwait. Si integrano molto bene nel villaggio. È un piacere di visitarli. I piccoli ragazzi parlano già lussemburghese. Il più anziano ha un po' più di difficoltà. Ma sta facendo bene. Mi scrive ora in inglese sempre. È un piacere di vedere che questa gente possa avere una vita sicura, felice, come noi altri. E dobbiamo comunque pensare anche a questa multitudine di gente che non ha queste possibilità. Noi possiamo farlo. È possibile integrare. La gente, la maggior parte, non sono estremisti. Se ce ne sono, è altra cosa. Bisogna anche trattarli come estremisti. Ma non lo sono. E dobbiamo mantenere il cuore aperto. Perché, infatti, la pandemia dovrebbe insegnarci che senza contatti sociali noi siamo ridotti nella nostra umanità. e davanti alla porta dell'Europa abbiamo gente veramente che è separata da tutto. E mi fa male. Dobbiamo fargli qualcosa. Grazie. 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 Grazie.